questo prodotto realizzato dai go star ha conquistato una votazione di 8.4 su 10 punti totali risulta essere il più votato per questa categoria con 420 valutazioni i punti di forza sono facile da montare controllo remoto ottimo rapporto qualità prezzo stile livello del rumore comodo puoi acquistare questo prodotto o scoprire maggiori informazioni cliccando sul link che trovi in basso nella descrizione del video ardes con questo articolo si è aggiudicato un voto finale di 8 su 10 risulta al momento avere il miglior rapporto qualità prezzo i suoi pregi sono controllo remoto stile ottimo rapporto qualità prezzo se vuoi avere maggiori informazioni e vuoi conoscere il prezzo di questo articolo clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video la valutazione finale assegnata a questo articolo di zephyr è di 9.2 voti su un totale di 10 lo valutiamo come la scelta migliore le sue peculiarità sono facile da montare controllo remoto se vuoi avere maggiori dettagli su questo prodotto o vuoi acquistarlo clicca il link che trovi nella descrizione in basso del video il voto finale assegnato dalla nostra redazione a questo prodotto di agura e di 8 su 10 è il più esclusivo di questa selezione i suoi punti di forza sono ottimo rapporto qualità prezzo controllo remoto in basso nella descrizione di questo video trovi il link per avere maggiori informazioni o consultare il prezzo aggiornato di questo prodotto questo articolo di dar daruga ha riscontrato una valutazione di 7.8 su 10 totali risulta al momento essere il più venduto online ecco le caratteristiche che lo contraddistinguono stile ottimo rapporto qualità prezzo controllo remoto il prezzo di questo articolo insieme a maggiori informazioni è consultabile attraverso il link che trovi in basso nella descrizione del video Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti